Il decreto crescita è legge e con la sua approvazione da parte del Senato passa anche il Fondo Salva Imprese. E' proprio questo il salvagente economico al quale si è aggrappato con le ultime forze rimaste il Comitato delle Imprese Creditrici della CMC di Ravenna. E' un grande giorno, scrivono dal Comitato, per 120 imprese e per 2.500 lavoratori della Palermo Agrigento, della Grigento Caltanissetta e della Metropolitana di Catania. Per i creditori della CMC, comunque, la questione non finisce qui. Chiedono al Ministero delle Infrastrutture, al più presto, la convocazione di un tavolo tecnico, così da definire celermente i decreti attuativi e far sì che le procedure per i rimborsi dei crediti partano entro l'estate. Sullo stato dei lavori, le imprese rassicurano, alla luce dell'approvazione del Fondo Salva Imprese. I cantieri delle statali siciliane e della metropolitana catanese potranno presto ripartire, assicurano. E la Sicilia potrà finalmente beneficiare di queste fondamentali infrastrutture. Il Comitato dei creditori della CMC, con una nota, ringrazia tutte le forze politiche di governo e parlamentari per avere con grande senso di responsabilità approvato il Fondo Salva Imprese, all'interno del DL Crescita convertito in legge dal Senato. Evidenziamo la necessità, aggiunge comunque il Comitato, che il fondo venga rimpinguato fino al totale soddisfacimento dei nostri crediti e pertanto chiediamo il massimo impegno di tutti perché sia lasciata aperta la porta a eventuali cofinanziamenti, da qualsiasi fonte siano disponibili. Grazie a tutti!